bene salve buongiorno a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano dedicato alle analisi operative oggi concentreremo la nostra attenzione sul cable con una possibile correzione in area 1 e 24 prima di una nuova ondata di vendite ma facciamo il punto della situazione anche per quanto riguarda l'analisi sui fondamentali la stellina è rimasta stabile la scorsa settimana poiché la banca centrale inglese ha mantenuto invariati i tassi di interesse allo 0,75 per cento la banca ha pubblicato previsioni aggiornate che hanno riconosciuto l'economia che potrebbe eseguire una miriede di una gamma abbastanza importante di diversi potrebbe di diversi percorsi riferita alla politica monetaria nei prossimi anni sebbene le previsioni escludono la possibilità di una brexit senza accordo sappiamo che secondo il nuovo rappresentante del parlamento inglese boris johnson che è andato a sostituire la teresa mei lui ha già indicato che accordo o non accordo il 31 ottobre è la data definitiva per per uscire definitivamente per interrompere definitivamente con l'unione europea a prescindere che ci sia un accordo o meno questa situazione quindi potrebbe comportare quindi senza un accordo quindi potrebbe comportare una nuova ondata di vendite sulla sterlina però andando ad analizzare anche l'aspetto tecnografico in ottica soprattutto in ottica settimanale abbiamo riscontrato una possibilità di un rientro agli acquisti fino in area 24 prima di una nuova ondata di vendita anche perché negli ultimi indicazioni che nelle ultime informazioni che arrivano da londra boris johnson sta perdendo qualche pezzo del suo endurage quindi praticamente ci potrebbe stare una fase una leggera fase di di movimentazione rialzista della sterlina prima di una rigaduta un ulteriore rigaduta bene portiamoci sul grafico settimanale e andiamo a vedere che cosa sta succedendo bene vedete praticamente la sterlina il cable quindi sul punto in cui ha terminato l'ultima settimana di cui ha identificato una nuova movimentazione al ribasso che si è portato sotto il mio livello 1 22 zona però questa è una zona zona di demand dove passano diversi livelli di prezzo e precisamente ovvero una zona di demand tra 1 e 21 1 19 80 1 19 90 è una zona già testata in passato quindi potrebbe essere oggetto di rimbalzo testata esattamente nel mese di dicembre 2016 nel mese di agosto del 2016 ottobre 2016 e poi a inizi del 2017 fino dove ha iniziato questo lungo percorso rialzista raggiungendo il tetto massimo un massimo importante in zona 1 e 44 e poi iniziare la discesa discesa che poi l'ha riportato adesso in questo momento un'altra volta in questa zona di demanda se andiamo quindi allargando il grafico vedete proprio in questo momento c'è stato un ulteriore rimbalzo rimbalzo che andando a tracciare fibonacci dall'ultimo massimo relativo vero ultimo massimo è questo ultimo massimo fino al minimo della settimana dell'ultima settimana che si è chiusa a cavallo tra il mese di luglio e il mese di agosto la settimana appena trascorsa si è andiamo ad identificare una zona di storm una possibile zona in cui il movimento correttivo potrebbe terminare dove proprio al centro tra il 50% ovvero 1 24 e 30 ed 1 25 e 15 passa anche il livello annuale a 1 24 e 76 quindi molto probabilmente potremmo assistere all'ultimo movimento diciamo una fase di recupero da parte della cable per poi ritornare eventualmente quindi testando questa zona quindi ci potrebbe stare anche un pullback per poi ritornare nuovamente a piegare verso il ribasso e quindi arrestare nuovamente all'interno del suo trend negativo dovuto soprattutto ad la possibilità che questo potrebbe essere tale situazione tale movimento quindi ribassista potrebbe continuare anche su dopo soprattutto in particolare nel prossimo autunno quindi dopo l'estate in virtù anche di un accordo con l'unione europea da parte della gran bretagna bene grazie mille per l'attenzione e ci aggiorniamo al prossimo appuntamento buona giornata a tutti